Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale Allora ragazzi, ci sono veramente rimasto male oggi? Drop, facciamo i drop, Savix quando fai i drop, vogliamo i drop e poi in 3 erano dentro raga Grandi, fantastici Quindi vediamo se sabato prossimo riusciamo a meno essere in 6 Comunque, faccio finta che non è successo niente e andiamo avanti Allora ragazzi, incarichi di Dax massivi, cioè potremmo fare tutti gli incarichi di Dax uno dietro l'altro Non so se funziona anche con quelli del Naito o di qualsiasi altra cosa Se volete provarci, scrivermelo nei commenti, io sono grato di mettere poi il vostro commento fissato in alto ragazzi Quindi andate a farvi il vostro incarichino di Dax E una volta ragazzi che vi siete finito l'incarico Dobbiamo semplicemente fare una cosa Andare dalla nostra sala giochi Quindi ragazzi come requisito dovrete avere la sala giochi Non serve che avete il colpo preparato o qualsiasi altra cosa strana L'importante è che possedete una sala giochi Quindi a questo punto chiamiamo Dax e vi faccio vedere effettivamente che io adesso ho da aspettare il tempo ragazzi Perché non è massivo, dovremmo farli ogni 45 minuti Ora controlliamo ragazzi Comunque sia non mi lo fa chiamare Dovrei aspettare per forza Quindi come potete vedere sono 47 minuti ragazzi Cosa facciamo? Andiamo alla nostra sala giochi E una volta che siamo qua ci entriamo all'interno Una volta che siamo all'interno ragazzi della sala giochi Veramente molto semplicemente Entriamo qua dalla porta Ci chiamiamo Dax Una volta che abbiamo chiamato Dax Ascoltatemi bene dobbiamo fare un piccolo trick Che è una stupidaggine raga Allora ci mettiamo davanti alla porta per uscire ragazzi Guardate bene E a questo punto apriamo il menu di pausa Una volta che abbiamo aperto il menu di pausa Teniamo premuto il menu di pausa ragazzi Lo rilasciamo e appena lo rilasciamo Spammiamo A o X ragazzi In questo modo riusciremo ad avviare di nuovo L'incarico di Dax Quindi se vi è piaciuto il video Se vi è stato d'aiuto ragazzi Lasciate un like Lasciate un commento Supportate Xavix E ragazzi Venitemi a trovare su Twitch Cercherò di portare più live possibili durante la settimana Il sabato faremo sempre degli eventi E cerchiamo di crescere anche con quel canale Bella raga Alla prossima Sbada bam Alla prossima Alla prossima Alla prossima